Perchè sapere cosa c'è dentro? Oh, Prosecco, Aperol, orange juice, cranberry juice. Ecco qui, le vongole si stanno schiudendo, queste sono le vongole della Florida, eh, la prima rese. Vengono dalla Florida queste. Mmm, questa è grande, sono buone comunque, l'ho trovata. Che è sta roba, Robè? Alici. Alici? Cosa fai? La pasta con le alici? Ehi. Una tradizione calabrese. I broccoli. Alici e broccoli. Ok, quindi facciamo anche la pasta con le alici. Stangiamo anche quel drink, guardate, fa l'effetto glitterato all'interno con quella polverina. Buono, veramente buono, buona ricetta a tutti. Ed ecco qui, abbiamo la pasta vongole, poi che cosa abbiamo qui? L'insalata di mare, qualche snack, abbiamo questa pasta che è la pasta con le alici, una tradizione calabrese, poi abbiamo pomodorini, vinizane saltorio, cos'è questo? Broccoli. Broccoli? Broccoli. Abbiamo anche la burrata. E' la burrata quella? Mmmh. Mmmh, anche la burrata. Auguri bella, guardate che vestiti noi abbiamo comprato oggi. Fai del tuo vestito, bella. Vai a vedere. Bellissima. Ok, ok. Auguri bella. Abbiamo anche le cozze, queste sono cozze che vengono dal Canada, non sono grandi come le nostre, però sono succulenti. Ok, ci arrivo. Sono arrivati anche i nostri calamari, eccoli qua finalmente, calamari e gamberetti. Voi sapete che sono amanti di calamari? Sono buoni. Adesso li assaggiamo e vediamo che cosa abbiamo di qua. abbiamo l'halibut, che l'halibut qui in Canada è molto in voga, è un pesce che si trova nei mari dell'Atlantico, al nord delle coste di Newfoundland. ma io non mi colpevo. Eccolo qui, l'halibut. Ah, ah, ah. Vedi adesso, assaggiamo questi buonissimi calamari. Già si è sempre buoni. E questa è la situazione alle dieci e mezza di sera. Abbiamo finito di cenare, la neve non l'ha fatta e stiamo nel bel mezzo della nebbia. Una nebbia bella fitta, guardate. Fittissima proprio. Wow, non si vede proprio nulla. Auguro a tutti un buon Natale. Qui stiamo aspettando la mezzanotte, sono le dieci e mezza. Quindi un'altra oretta e mezza. E poi è Natale, quindi tanti auguri di Buon Natale a tutti dal Canada. Ciao!